Sei stanco di aspettare una lunga settimana per vedere in tv il nuovo episodio della tua serie preferita? Serie preferita Vorresti disintossicarti dalla televisione e intossicarti dal computer? Vuoi avere un buon motivo per non vivere più la tua vita di merda? Perfetto Abbonati a Nientelix Il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo Abbonati a Nientelix Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana Ascelle SD L'uomo che puzzava di allucinogeni Gomorra cinese Sasso batte forbice Forbice batte carta Vero Kalashnikov batte tutti Abbonati a Nientelix A Nientelix Giovani carini Giovani carini E scopati da giletti Un horror mozzafiato Abbonati a Nientelix A Nientelix Edward Mani di forbice e ginecologo della mutua Islamici di Maria di Filippi Un supereroe distrutto dagli autovelox Il pianeta Saturno si scopa tutte Abbonati a Nientelix Ken Shiro e Maurizio Costanzo Una storia d'amore Andy narcotrafficante Abbonati a Nientelix Walker Texas Power Rangers Casino Aiutobografia Artobiografia No Aiutobografia No, è auto Artobiografia No, auto No Antobloglafria No Antonio Blaglafria Ma chi è? Vabbè La vita di Luca Giurato Ho spiltato per una vita E nessuno se ne accorbe La storia della mucca Che non sapeva fare il latte Cosa aspetti? Cosa aspetti? Abbonati a Nientelix Abbonati a Nientelix Cosa aspetti? Abbonati a Nientelix